Rebecca De Pasquale si sfoga sul suo profilo ufficiale di Instagram, con la casa completamente allagata a causa dell'alluvione. L'ex concorrente del Grande Fratello XIV vive a Prato, una delle città toscane che sono state più colpite dalla tempesta Chiran nella notte tra il 2 e il 3 novembre. Due morti, feriti, fiumi esondati, dispersi e case allagate sono al centro del disastro climatico che riguarda l'Italia in queste ore. Continua a esserci l'allerta e, intanto, i cittadini residenti nelle province della Toscana stanno cercando di affrontare le conseguenze. Tra questi c'è appunto Rebecca, che in questi ultimi anni ha spesso parlato dei suoi problemi economici. Ciò che ha pubblicato la De Pasquale rappresenta la situazione che molte famiglie italiane stanno affrontando in mezzo all'acqua e al fa... Con un video su Instagram. In lacrime, Rebecca mostra la sua casa completamente allagata. Ecco la situazione attuale di Prato zona casale. La forza di reagire non deve assolutamente mancare, scrive l'ex GF. In particolare, l'ex GFina mostra l'ingresso di casa sua. Sommersa dalle acque. Rebecca spiega. Inoltre. Che i suoi vicini la stanno ospitando in queste ore. Visto che il suo appartamento è diventato in queste ore invivibile. Povera gente che ha perso tutto. Ecco questa è la situazione. Signore aiutaci. Afferma piangendo l'ex concorrente. Ecco qua questa è la situazione. Continua in un altro video la De Pasquale camminando nell'acqua e mostrando ancora altre immagini scioccanti della sua abitazione. Condividendo un altro filmato, Rebecca mostra come è riuscita ad asciugare la maggior parte dell'acqua che ha invaso casa sua nella notte. Ma ci sono ancora tante cose da fare per l'ex GFina. Come ad esempio asciugare i mobili e tutti gli oggetti. Come ad esempio asciugare i mobili e tutti gli oggetti.